Io sto aspettando la cittadinanza, ho due anni e mezzo che l'ho fatto e la mia moglie e i miei figli l'hanno preso. Io sono venuto oggi a prendere un'informazione, non mi lasciano entrare che non c'è l'appuntamento, non importa, aspetta. Però a mezzogiorno chiude, la giornata mi passa senza pagamento, senza niente. Volevo sapere un perché. Attimi di tensione fuori dall'ufficio immigrazione della prefettura di Arezzo. I cittadini stranieri sono stati fatti uscire ad un certo punto della mattinata perché l'ufficio era troppo affollato. È una precauzione, ci dicono dagli uffici della prefettura di Arezzo, per il momento particolare che stiamo vivendo in seguito all'emergenza coronavirus. Il decalogo del ministero verrà presto affisso in tutti gli uffici della prefettura, quel decalogo che ci dice quali debbano essere i comportamenti per evitare il contagio. Intanto in via precauzionale saranno accolti i cittadini che avranno un appuntamento, tutti gli altri dovranno aspettare fuori dalla porta. Insomma, bisogna portare pazienza, difficile però quando è da oltre un anno che aspetti la risposta per un permesso di soggiorno per lavoro. Un anno non risposta niente, niente. Sono venuto qui ogni singolo lunedì e mi dicono torna il prossimo, ma alla fine non mi dicono mai niente. Ho consegnato a loro tutti i documenti, ogni volta che sono venuto mi hanno dato un appuntamento, vieni lunedì. Sono venuto e non avevano nulla.